Una proposta contro la crisi arriva dall'iniziativa Ripartiamo insieme nel Pinerolese, proposto da sindacati e imprenditori. Antonio Sgobba. Un manifesto per rilanciare le imprese di Pinerolo, Cavour e Volvera. Lo hanno presentato insieme i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro e i rappresentanti del terzo settore. Stando ai dati del 2020, nel Pinerolese ci sono 17.000 imprese. Dieci anni fa erano più di 18.000, in tutto gli addetti sono quasi 40.000. Nell'ultimo anno ci sono state 706 nuove aperture e 633 chiusure. Il tasso di crescita è sceso dello 0,52%. La presenza più significativa rimane quella delle imprese agricole, seguite dalle manifatturiere e dalle edili. Ora, per affrontare la crisi seguita dalla pandemia, i promotori del manifesto Ripartiamo insieme hanno deciso di istituire un osservatorio permanente per analizzare i dati socio-economici della zona e valutare l'efficacia delle misure adottate, grazie alla collaborazione della Camera di Commercio di Torino e dell'Agenzia Piemonte Lavoro.